Buongiorno a tutti, io vi risparmio la presentazione, non c'è una 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 presentazione, non potrebbero essere ripetizioni di autorevoli interventi che ci sono stati fino adesso. Abbiamo deciso di chiamare questa sezione e testimonianza, quindi è in qualche modo aperta. Io contavo di ascoltare gli interventi precedenti per fare qualche considerazione. Gli interventi precedenti ci sono molti punti che meriterebbero degli approfondimenti, sia dal punto di vista strettamente, come posso dire, tecnico. Per esempio, Sergio, non è vero che per quanto riguarda gli aspetti di protezione, alle operazioni, condizioni di ghiaccio, tutto il nostro lavoro. Anzi, quello è stato uno dei primati di ATR, infatti ho pensato che una prima parte di questa testimonianza poteva essere quella dei primati, primati tecnici e primati tecnologici. Il primo che mi è venuto è proprio questo. Purtroppo, ahimeno, non per la nostra scelta, ATR è stato il pioniero nelle operazioni e nei nuovi regolamenti di certificazione, la famosa 158, lo guardavo, ben per un po' torto, la gara. Io stesso ho partecipato a gruppi di lavoro negli Stati Uniti con l'EFA, l'NTSB e la NASA per stendere questi nuovi requisiti, nuovi requisiti di che? Non certo delle operazioni in condizioni di ghiaccio dette nominali, perché quelle per definizione sono quelle a cui devono rispondere un venivolo in maniera di operazioni continuative, senza perdere i performance, senza perdere eccetera eccetera, ma di operazioni in condizioni estreme, quelle dette di similasi, di ghiaccio sempre. E lì siamo partiti a dire ma che è questo ghiaccio sempre? Quindi ecco qua, diametro delle boccioline, super cool ed tutto quello che ti pare. E quindi si è portato avanti tutto, nuovo riferimento. E ATR è stato protagonista, ripeto ancora una volta, non perché ce l'avamo scelta, ma perché sono stati obbligati a farlo? Vi risparmio, perché questo secondo me è talmente interessante questo aspetto, questo capitolo, che secondo me meriterebbe proprio una lezione all'università. Ma tra le altre cose abbiamo sostenuto come ATR moltissimo lo sviluppo della galleria al Cino con i dati che venivano dalle nostre attività sperimentali. Giusto per dirvi a che punto eravamo arrivati di conoscenza di questo punto, siamo arrivati di conoscenza di questo punto è che nel concorso di MeteoFrance, MeteoFrance sicuramente è uno degli organismi di sorveglianza meteorologici più importanti del mondo, e non un'opera solamente di traduzione, ebbene MeteoFrance ha scelto proprio la TR42 come piattaforma sperimentale per andare a misurare e a vedere cosa che si cura e si produce. e perché? Perché è la metà più sperimentata che oggi esiste, come comportamento, come di un uomo di paradigme eccetera eccetera. E' assicuroso che non in caso anche la condizione stabilisce, la nuova app dicevo quando sarà operativa, stabilisce le condizioni per le quali sistemi, quali allarghi, quali manovri, quali preparazioni di queste condizioni estreme sia in essere, per mettere a punto le manovre di escape, cioè voglio dire tutta la nuova regolamentazione che si mette a un top di quella preesistente, che ho detto prima, sta a dire solamente quali sistemi, quali allarghi, quali manovri, quale preparazione degli equipaggi, quali ricoveri dal punto di vista delle condizioni di stallo eccetera eccetera, cioè per andarsene il più rapido dell'anno prossimo. L'appendiceo, quindi è un appendiceo, un appendiceo, un appendiceo che viene in più. Determina semplicemente come andarsene. Allora, qual'è il primato? Il primato è che, in effetti, abbiamo sperimentato tantissimo, abbiamo sperimentato, e per questo il momento Franz ci selezionò, abbiamo sperimentato sistemi di misura delle voce, dell'energia, eccetera eccetera, tutte queste cose così, e non ce ne riuscivamo. Non ce ne riuscivamo, fra altre cose ti posso anche dire che l'ATI era uno dei primi ad avere un sistema che misurasse l'accrescimento di gaggio sulle sue superfici, in particolare con gli intradorsi, che c'è ancora questo sistema, ma non ce ne riuscivamo. Non ce ne riuscivamo in nessun modo perché non siamo arrivati, e devo essere sinceri, ad avere un sistema primario di detenzione di queste cose. E allora ci fu, cambiamo completamente rotta, e allora dicevano, ma noi come anti-ER, però ho dimenticato di presentarmi perché mi sono preso conto quando ci fai chiamarla così, questo. Allora, dovete sapere che intanto mi chiamo Carmine Rossi, vengo da questa università, e sono stato dal 2001 al 2015, a dicembre del 2015, un direttore tecnico dell'ATIER, quindi queste cose qua dentro la versante di oggi. E quindi dicevo, il primato qua, siamo tornati con il nostro costo. Il nostro costo, l'ATIER non è AI, naturalmente, io non do l'ATIER, ma non è di parte, per esempio AI, MLS, ELE, MLS, ELE, MLSN, dunque non anno non adesso. Noi non siamo sperimentatori, noi non siamo di fisica, come posso dire, di di ricerche di base, questi aspettano la NASA, aspettano la Cina, aspettano agli enti che sono proposti a fare questo, ma noi siamo dei puristi, siamo in effetti quelli che integrano, siamo quelli che gestiscono, siamo quelli che definiscono preparazioni in tutto il paese, quindi siamo ritornati in tutto il tempo. E proprio questa è la cosa che mi disse il tempo, e che fu in effetti cambiò in qualche modo, e che non ce ne riuscivamo a fare questi anni, a genci, a mettere colore intorno all'aereo con sensori, con questo, con quell'altro, e vi posso assicurare che la fantasia sono sempre quasi assurdi, ma ritornammo all'interno dell'aeroplano e facevamo un ragionamento molto semplice, ma tutto questo, sto guardando mio amico Vincenzo Russo, tutto questo che succede, che fa? Degrada le performance dell'aereo. Cioè, quindi, se io riuscissi ad avere un sistema che in tempo reale monitorizza le performance dell'aereo, noi sappiamo benissimo tutta la, come posso dire, le equazioni, tutto quello che vi pare che regolano queste cose, se noi riuscissimo a mettere a punto un sistema che monitorizza l'evoluzione di tempo reale, l'evoluzione delle prestazioni rispetto a quelle teoriche, a quelle di certificazione, a quelle teoriche, e se noi riuscissimo, sempre in tempo reale, a determinare che in effetti queste sono dovute ad effetti esogeni, non, per esempio, che ci permette di poter dire all'equipaggio, attento, attento, c'è qualcosa che va, c'è qualcosa che non va, perché con questa energia a voi, con l'aerodinamica che noi abbiamo visto, con il peso di l'aerodinamica, con eccetera 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 eccetera, tutto cristiano, questa velocità, questo l'aerodinamica, questo eccetera 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 eccetera. Questo è un sistema che brevettavamo, che ci arriviamo, che brevettavamo, lo presentavamo all'NTSB, lo presentavamo alla DGAC all'epoca, lo abbiamo presentato a Mianza, lo abbiamo presentato a tutti gli enti, e in effetti anche in questo caso abbiamo determinato, e quindi l'innovazione che siamo stati primi da vedere. Questo sistema fu anche in qualche modo testato e provato su A400M, ci vennero a vedere e ci disserano come potremmo fare questa data su A400M, i loro scopi erano diversi, naturalmente i problemi di una propria unità, quindi la decadizionate della loro all'interno come adesso non è vero di vedere, ma quello che si stava sparando. E con questa per esempio è stata un'innovazione, fra le altre cose è stato anche previo innovazione di Atenia, e quindi questa è stata una prima, un latiera nel suo piccolo, per un 2,2 mm o per un 8,2 mm, ma in effetti siamo stati costritti, e oggi questo sistema è operativo sull'LATR, quindi da tre livelli di informazione a più di un'innovazione. Quindi, Staxitto, naturalmente va tutto bene. Il primo livello è un livello che dice guardati la velocità e monitorizza la velocità. Il secondo livello dice, e quindi questo è azzurro, il secondo per chi ha dimestichezza come poloni e dei propri, questo non indica una criticità, ma indica semplicemente un'informazione. Il secondo invece è ampra, quindi è già un'allarme, in cui dice degraded performance, il terzo è rosso e download in crisis speed. Quindi in effetti non si discute, non si vanno a cercare le manovre da effettuare, viene diretto, proprio viene detto, esplicitamente, ma non è tanto velocità. Questo ci ha permesso di evitare un sacco di problemi. Ci ha permesso di evitare un sacco di problemi e mi fermo là. Ma non è finita, perché ancora, sempre nello stesso dominio, non so se io sia il tema o meglio, ma ne abbiamo continuato. La serie 600, la serie 600 che io sento molto mia, secondo me la verità, ha stabilito un nuovo riferimento nell'aviazione regionale, per tutta la serie di motivi. Il primo tecnologico, perché dovete sapere che l'interfaccia uomo macchina, i famosi schermi, ecco non è semplicemente schermi piatti, ma sono cinque computer, cinque smart display che costituiscono cinque flight management systems, cinque. sistemi di monitoraggio delle performance, quindi vedete, non è semplicemente quello, siamo a stare dal tubo catodico all'LCD, se vi permette la visione, ma è un nuovo sistema di gestione del computer, quindi riconfigurazioni automatiche, scelta e cambio delle configurazioni e delle informazioni in base alle situazioni di volo. Paperless cockpit, in base quindi c'è anche un altro sistema, Luigi ne parlava di Earth Monitoring System, questo è un altro problema. problema. Noi siamo stati primi che hanno trasmesso al solo, completamente con GSM, i dati motore via internet. noi dicevamo, se il cliente aderiva al ritoraggio della salute dei motori, ci poteva trasmettere ad ogni sistema di processare. Ma voglio continuare sul primo discorso, non ci siamo fermati a questo sistema, perché ci siamo resi conto, e spongo che l'abbiamo visto, una delle cose che sono state quelle più viste negli ultimi tempi, era quello di un video YouTube in cui si vedeva la Tiana, che prendeva una specialità agenziale, una cosa del genere. Beh, ci rendemmo conto dall'analisi di questi eventi, perché ci sono stati molto semplici, di questi eventi che le conduzioni meteorologiche all'alteraggio, quindi non ha niente a che vedere il condizioni meteorologiche all'alteraggio, causando stress a livello della gestione del volo, quel caso lì in effetti ci fu al ricollo c'era una perdita di un motore, un motore andò rinunciato alla netta, e l'arrivaggio spese d'altro, quello di qua. Che in effetti ci rendemmo conto che, e che c'è questo nonostante tutto quanto, se volete, di allarmi, di arrisi, di tutte queste cose così, nonostante che il copilota si fosse perfettamente reso conto che è il comandante, quindi sono sperimentatissime, cioè lei è uno che era appena salito sull'aereo, però questo è il human factor, lui è convinto di spegnere il motore, basta, per confermare lo spegnimento, come se avete bisogno di mettere in battiera, così no, spezzi il motore buono, dopodiché non hanno avuto il tempo per riaccelerare e tutto il resto. Bene, ci siamo riscontati, questo perché? Perché voleva andarsene via, perché stava arrivando un fronte temporalesco che lo avrebbe costretto a terra probabilmente per molte ore durante quella giornata, le cose sono veramente poi semplici quando si è riscontrati, bene, e quindi sotto questo stress di scappare, insomma, di togliersi dai voglioni perché stava arrivando il fronte temporalesco, era una fatta una grossa. Ecco allora noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che lo stiamo facendo probabilmente, spero tanto che i miei problemi quest'anno riescano a certificare questo sistema. È un sistema che permette di poter operare in condizioni di visibilità estremamente bassi, attraverso la sovrapposizione all'ambiente naturale di una simulazione video, ma la simulazione non è il termine giusto, di una ripresa video nello stesso ambiente, ma filtrato attraverso sette colori differenti, se volete, sette decorazioni. Qui c'è una telecamera posizionata sul colon, sul uso dell'ATM, che ha tre ottiche e più quattro elettroniche. La mistura di tutte queste permette, con un sistema montato sul capo, Head Mounties, di poter, per quanto riguarda il pilota, guardare fuori e vedere la situazione esterna, quindi attraverso una ripresa che non modifica nulla, ma gli da attraverso la regolazione delle temperature di ricensione, una visibilità tipo Google Lens o cose di questo tipo. Il fatto che non sarà tutto verde, come sappiamo, ma è un discorso differente. Non solo, ma è una synthetic vision. Si può sovrapporsi a questo sistema e il sistema e il cockpit cambierà perché sarà con tanti di quei sensori che seguiranno la testa del pilota. Quindi se il pilota si gira per esempio sulla sinistra, non vedrà più quello che vedeva prima, ma vede semplicemente quello che si vede a sinistra. Per rivedere, deve rimettersi lì e guardare dove vuole. Se appassa la testa è per guardare il suo, per la scena, per guardare la sua, per il suo cockpit, il suo cruscotto, ecco, non viene in realtà. Ed è tutto questo. Quindi vedete, anche questa è l'innovazione. Non ce ne sono altri sistemi. C'è un sistema che si chiama HOD, è da display, cioè del display per il pilotaggio a testa alta, su cui queste stesse informazioni si possono, si possono, si potrebbero, naturalmente, mentre abbiamo cominciato a sviluppare questo qua, insieme a adesso. Spero che quest'anno questo cosa, ed è stato molto, molto emozionale, se posso dire così, fare il primo atterraggio, cieco, quindi con la Toulouse, con il vostro, il mio amico, il mio amico, il mio amico e la sala, quindi con i vetri oscurati e con il solo sistema montato, riusci non solo ad atterrare, ma poi a fare anche il taxi fino, praticamente, a ritornare al nostro viso. Questa è un'altra emozione. Vi potrei parlare di un sistema di HOD unito, con un MPC, multibus computer, ma anche quello originale. Allora, perché? Ho sentito anche altra cosa. Ho sentito di che cosa vuole il ventola, o di che cosa potrebbe il ventola esattamente questo. Ha citato l'intervento della 15 centesima Fusatina. Ebbè, Christian Scheller, che era l'ultimo arrivato sull'ASIL programma, ha detto che la fortuna di ATR è, anzi, che ATR ha la fortuna di avere un buon prodotto. Ebbè, qui ci avevamo ucciso l'entrematore, Sergio Barbarino, Tivlasi, Vincenzo Russo, la fortuna. Cioè, mica l'abbiamo trovato per terra, questo ve lo voglio dire. Non è che l'abbiamo fatto, l'abbiamo pensato, e ho avuto la fortuna e l'onore di dirigere tecnicamente questo programma dal 2001 fino al 2020. Ma non si si ferma qui. Allora, oggi che cosa bolla in peccolo? bolla in peccolo è quello che, in qualche modo, c'è stato fino adesso. Si cercano nuovi primati. Nuovi primati. I nuovi primati sono, naturalmente, un'ulteriore evoluzione Luigi Di del 127 M. Questa, per esempio, è stata un'altra innovazione. Il Power Management. L'onboard Energy Management. Completamente sconosciuta e, naturalmente, come diceva l'ingegnere Bagnato, un'altra persona che ha trovato, come noi, l'ATL per terra. E noi avevamo un problema. Che avevamo 150 enorme in potenza. Un 127 piccolo in potenza. E non riuscivamo a competere con il Dash 8400 sulle che tu hai definito. E facevamo un'altra scommessa. E tutti ci dicevano, magari, il certificabile. Cioè, il fatto che, ad ogni santissimo volo, si potesse scegliere il radio del motore da utilizzare. Ecco, questo vi ho detto. E definimmo due step. Il bus. Quindi, A, M e il Super Bus. Tutti e due di 4.5%. Cioè, in totale, arrivavamo al 9%. Quindi, 9% termica, potenza termica, da poter utilizzare. Naturalmente, il ciclo di vita del motore era chiaramente affettato e così via. Quindi, c'era da mettere a punto anche un mini sistema di gestione della salute del motore. Non lo voglio chiamare X-Monitoring System, che si dovrebbe abusare di tecnologie. Voglio dire, se in questa continuità si farà un ulteriore miglioramento del 127, le versioni di carico, come avete parlato, probabilmente hanno studio, un miglioramento aerodinamico dell'energia. Del nuovo sistema di banco di condizionamento che avete parlato, un nuovo carriolo avanti, eccetera eccetera. Quindi, si continua in questo modo qua. E questo nuovo che è in cuovo, in pentola, dovrebbe entrare in servizio del 21. Bene, uno dei ruoli che è quello di pensare dal 21 in poi. Dal 21 in poi, attenzione, c'è un'altra cosa che ci devo dire. L'LGTB e i modelli e i moduli attuali non sono alternativi. Non è che se non facciamo un LGTB, l'ATR1, e se vuole l'ATR1. Voglio dire, stiamo parlando, avete visto lo che non mi ha detto, non mi ha detto, in termini di aeroplani che nel nostro mercato valgono all'incirca 3.000 e qualche cosa macchine nei corsi di vent'anni. E l'LGTB ne rappresenta un terzo, i due terzi sono quartiere del 42 e quartiere del 72, quindi abbandonarli o pensare che sono vecchi o considerare che in qualche modo sia un ripiego o considerare in maniera negativa il fatto che Leonardo si occupi di questi prodotti che poi sono prodotti di successo, ci portano quattrini, non è un ripiego, è una scelta precisa di una strategia, poi lasciatemi dire, dell'NGTP non ve ne parlo, perché ne avete parlato voi, però vi voglio fare un'altra riflessione che probabilmente vi aiuterà a capire anche il regionale è cambiato, qualcuno l'ha detto, eravamo prima tantissime, c'era ATR, c'era Fokker, c'era Zapp, c'era Dornini, c'era Farshide e gli altri, dopo di che ATR e gli altri sono rimasti da soli, l'asse si è spostato, diciamo 75, 80 per cento, a chi era 20, le altri, le altri, lo che fanno? Che fanno il futuro? Che cosa faranno i canadesi in questo programma? E scomparirà e questi sarebbero gli altri, lo cederanno a qualcuno e questa è un'altra lettura. E poi c'è Albus che è entrato nel programma C6, dovrebbe essere annunciato, credo, non è uno scoperto che i prossimi settimane si si è annunciato, sì. E poi c'è Brian che discute con voi. E poi c'è il BTN che ha cominciato a fare, allora, una volta quando ero giovane con un sacco di capelli di fame, uno dei presidenti storici di ATR, il famoso Asci e Pepe, mi disse, signore professor, è urgente e attento, cioè il punto fondamentale di attività di attività. Ma non solo, lascio di farlo riflettere anche su altre cose. Non solo i manifesti di OEM che si stanno rilefinendo, stanno ridefinendo lo scenario industriale, ci sono i giapponesi e anche in questo in termini di aerostruttura, non solo i bambioressi, ci sono i giapponesi. Adesso, sia serio o non sia serio, i bambioresiani, beh, diciamo sì, sì, le cose sicuramente, i coreani, gli israeliani, insomma, ci sono un sacco di cose che forse, qualche anno fa, ma quando sono parlato di decine di anni fa, adesso ho parlato di due o tre anni fa, che era difficile da prevedere. Ma una cosa che sicuramente era imprevedibile è il consolidamento dei sistemisti, è il consolidamento dei grossi supplier. Immaginate adesso UTC che finalizza, e dovrebbe farlo quest'estate, la sua alleanza con Rockwell Covenants. Vi rendete conto del gigante mondiale che nasce? Io scherzando con il vicepresidente di Rockwell Covenants. Gli dissi, ma quanto voi farete un RFP per un airframe? E poi c'hanno tutto. C'hanno motore, sistemi, tutto, tutto quello che fanno. Rockwell Covenants mettono la mano anche sui sistemi più avanzati di navigazione, di gestione, eccetera, 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 eccetera. Quindi la UTC Covenants, non so come si chiamerà, lo sapremo, ma questo conglomerato ha tutto tranquillacente. Tutto, c'ha tutto. Sono uomini, G, General Electric acquisizione aspita tutto schiano, sulla parte sistemistica, in particolare per esempio per quanto riguarda la parte di elettrificazione della produzione o con gli svuoli sistemi di generazione dell'antica. Safran. Safran si è adeata con voi che per il mondo dite a più. Insomma, non fate fare la lista. Avete capito quello che sto dicendo? Quindi è importante capire, prima di buttare il nostro cuore al di là dell'ostacolo, come diceva il pari volo buono, erigente a te. Dobbiamo capire un cuore, e questo io non riconosco, non sono pagato per parlarne, come diceva la mia amica americana, ma in realtà l'industria aeronatica civile sta in te. E un'ultima cosa perché ho pensato quando ho visto che c'era anche il mio amico Beppe D'Orto, sul libro. Non voglio entrare nel merito tecnico, perché sarete veramente interessanti e interessanti. Quello che avete mostrato è Genera La Vescia. Quello che credo che Sergio abbia detto che è un competitor degli attieri su sei nostri. Quello che immagino è che siamo veramente lontanissimi, perché ne ho discusso con la colonia, insieme, diciamo, europea, che è un'unità di sicurezza, di sicurezza, di sicurezza. C'è un problema grosso. Tutte le norme aeronatiche di certificazione che conosciamo qui oggi sono il frutto di anni, anzi degli anni, di esperienze. Oggi, quando si stabilisce che un equipaggiamento, un sistema, o tutto quello che volete voi, deve provare come means of compliance questo, questo, questo e quello, e quindi va dimostrato che al minimo è questo valore, non un altro. E così, eccetera, eccetera. Tutta questa costruzione è una costruzione che viene da esperienze, da sperimentazioni, da sostanziazioni, che sono durate cinquant'anni, cioè dal post-guerra fino ad oggi. Quando noi stiamo parlando, ce l'ho accennato prima, all'appendice O. L'appendice O è dal 93 che si studia, siamo al 2018, e ancora non è uscita. Ancocché oggi tutti, tutti, naturalmente, che disegnano l'aeroplano, che progettano l'aeroplano, fanno riferimento a questa, ma in sacri testi non è ancora inserita. E allora mi diceva... Sì, chiudo, chiudo. Quindi, in effetti, diciamo che il modo che il mio messaggio che volevo darvi è questo, non parlo più di RTR, ma RTR, I know, RTR deve continuare a tornare, rimanendo nella sua situazione, come dire, nel suo campo fondamentale, e guardare al futuro. Il futuro è aperto. C'è qualche nube, ma non c'è niente che è al di fuori dalle nostre possibilità. E questo è quello che voglio fare. Grazie. No, ringraziamo tutti i rossi. Grazie per aver ricordato di Giuliano Bagnato, che è uno di cosa che si successe nel programma. Grazie a tutti.